All'interno dei percorsi di interscambio e di avvicinamento di realtà differenti, importantissimi sono i momenti in cui le scuole, soprattutto le scuole di istruzione superiore, possono incontrarsi, possono confluire su un tema comune e scrivere e scambiarsi opinioni e sensazioni e sentimenti soprattutto. E' quello che è successo tra l'istituto di istruzione superiore Torricelli di Maniago e liceo scientifico statale Carlo Cafiero di Barletta, che hanno messo a punto, complice tra virgolette l'unione territoriale intercomunale delle valli e delle dolomiti friulane, hanno messo a punto un libro che si chiama Come le foglie che cambiano colore. E' un percorso di poesia e di scritti, di brevissimi racconti, ma molto intensi, molto belli, che riguarda proprio un sentimento particolare che è la nostalgia. Con me Violetta Traclò, che oltre a essere un esponente amministrativo dell'unione territoriale intercomunale, anche scrittrice, l'abbiamo già avuta negli studi di TRM. Benvenuta, ieri avete fatto la conferenza stampa, oggi ci sarà la presentazione del volume, ma intanto perché come le foglie che cambiano colore? Traclò. Perché i ragazzi hanno scelto di individuare questo loro sentimento della nostalgia paragonandolo alle foglie. Le foglie sono qualcosa che cambia nel tempo, in autunno sono rosse, gialle, colorate, cadono, però in primavera l'albero crea delle nuove gemme, dei nuovi germogli e loro, essendo adolescenti, si sentono un po' così, alternativamente come foglie che cadono e come foglie che rinascono a nuova vita in primavera. Devo dire che è molto interessante questo percorso sulla nostalgia, che poi è un termine che sembrerebbe antichissimo, ma invece è un termine sostanzialmente recente, prima metà del 600, seconda metà del 600, che mette insieme due parole greche. Nostos, che è il senso, il tornare a casa e rientro, è al ghia che è il dolore, quindi il rimpianto del tempo passato. E i ragazzi così giovani, così pieni di vita, hanno nostalgie? Sì, hanno moltissime nostalgie, infatti nei loro scritti si percepisce la nostalgia verso figure care, momenti cari del passato, qualcosa che non si è mai avuto, ad esempio la vicinanza di un padre, ma molto spesso ricorre la figura del nonno o della nonna, come maestri di una scuola di vita. In un testo si cita le parole del nonno che dicono per insegnarmi a crescere in modo onesto, serio e correttamente. Quindi c'è la nostalgia per la persona cara, per il luogo che si è lasciati alle spalle, perché molti di questi ragazzi sono figli di persone che sono emigrati o al nord. È la seconda generazione di emigranti, quella che è nata qui. Sì, o al nord, ma anche da altri paesi del mondo, infatti questo libro vede coinvolti 110 ragazzi che hanno provenienze diverse e quindi c'è il sentimento della nostalgia per i parenti lontani, per la terra che si è dovuta abbandonare. Qualcuno dice, e sì, voi pensate che sia facile per noi stare qui, ma noi quando partiamo lasciamo tutto alle nostre spalle. Certo, per quanto possa essere un passato difficile, di difficoltà, di mancanza di denari, di cibo, è sempre il passato che ritorna, perché c'è l'affetto. Sì, perché c'è l'affetto e questo i ragazzi l'hanno saputo cogliere benissimo. Accanto al tema della nostalgia per il passato c'è anche il rimpianto per l'essere bambini, bambini privi di responsabilità dove dicono tutto era giusto quello che si faceva, si era considerati come la cosa più bella, invece adesso che siamo adolescenti dicono subiamo le pressioni perché dobbiamo diventare persone di successo, mentre invece noi siamo pieni di timori per quello che è il nostro oggi e per quello che sarà il nostro domani. Ecco, nel libro si divide, lo dicevo prima, in due parti, ci sono le poesie e ci sono gli scritti. Se lei vuole Traclò una poesia gliela concedo, la può leggere tranquillamente. Va bene. Allora, una al volo, subito. Una al volo, un attimo. Ho nostalgia dei miei errori, ho nostalgia di tante cose, per gli sbagli che faccio e per quelli che farò, senza sbagli non posso crescere, capire chi sono, che cosa devo fare, come mi devo comportare, sarei smarrita. Il tempo cambia i sentimenti, anche quelli più profondi, che ho creduto veri. All'improvviso sono passata di moda, si è formato uno dei tanti vuoti che gli amici non colmano e non capiscono. Questa era una... Questa era una poesia, ho nostalgia dei miei errori. Sì, ma chi era lei? Una studentessa di... Una studentessa di Maniago. Di Maniago. Ma anche qui nella prosa c'è per esempio il primo racconto, che è quello che riguarda la nonna, che è bellissimo e che praticamente riporta tutti quanti noi a quelle sensazioni, a quegli odori di un tempo, quando si andava dai nonni, dove molto spesso non c'era ancora il riscaldamento dei caloriferi, come ormai abbiamo tutti, ma c'era un antico strumento dalle nostre parti, come a Barletta, del resto, ma penso anche al nord, che era il bracere, che era uno strumento di riscaldamento molto limitato, però lì ci potevi cuocere anche qualcosa, la patata di turno e quindi potevi anche assaporare. Tutto ciò sull'onda sempre dei ricordi, come avviene per esempio per nostalgia la mia antropologa, sempre è una studentessa di Maniago, che riporta tutto questo discorso che è quello che poi ha a che fare appunto con il grano, l'acqua, le forze della natura, il fatto che molto spesso era davvero troppo piacevole, scrive la studentessa, questo gesto erultivo di estinzione di tutti i ricordi sgradevoli, davvero troppo piacevole. Ma ci sono poi ovviamente tutti i contenuti, ce n'è uno che riguarda Pokémon per esempio, che è molto divertente, che è di uno studente del Cafiero di Barletta, che racconta come su Pokémon c'è un sostrato, un percorso di nostalgia, giusto? Sì, di nostalgia per le vecchie serie di carte, eccetera, si accettano poco volentieri quelli che sono i nuovi eroi di questo gioco e quindi dice bisogna però riuscire ad abbandonare la nostalgia del passato per accogliere comunque positivamente quello che è il futuro. Infatti c'è un racconto che dice un futuro bello come il passato, che è molto bello e che è di Antonio Atena, di Maniago in questo caso. Un futuro bello come il passato che quindi apre queste prospettive, che un po' poi è il discorso della nostalgia del futuro, di ritorno al futuro, perché no? Tutto questo insomma in questo volume che è stato edito per i tipi delle edizioni Virginia e che ci permette di verificare, di mettere insieme le capacità espressive da Maniago a Barletta e devo dire che non si notano grandi differenze, nel senso che il percorso degli alunni quando è un buon percorso didattico dà i frutti. Sì, infatti è stato bello che loro si potessero confrontare con questi iscritti ma anche perché loro si incontrano oggi, questo pomeriggio, per partecipare alla presentazione di questo volume, oltre ad aver fatto delle lezioni in videoconferenza. Quindi è stato un piacevolissimo scambio Nord-Sud e soprattutto perché questo progetto è stato voluto dall'Unione Intercomunale per portare una zona del Friuli che è molto poco nota ed è diciamo un po' non fa parte dei percorsi turistici più usuali, portarla a contatto di una zona che invece è più nota ma in termini di vicinanza si è voluto fortemente venire qui a Matera perché... E' questo che le volevo domandare, Barletta va bene, Maniago va bene, ma perché Matera? Ma perché Matera, perché se posso citare le parole del dirigente scolastico della scuola dove lavoro piace considerare che la cornice di fondo nella quale si colloca questo volumetto è rappresentata da Matera, capitale europea della cultura per il 2019. Dice dall'angolo visuale della pedemontana pordenonese nella quale è collocato l'istituto di istruzione superiore evangelista Torricelli di Maniago abbiamo guardato negli anni scorsi con grande interesse al percorso prima della progettazione poi della candidatura quindi della selezione di Matera per alcune ragioni di affinità, una piccola comunità fuori dai grandi flussi della comunicazione dotata di risorse ambientali e culturali uniche si mette in gioco con grandi competitori facendosi forza della propria capacità di creare partecipazione e condivisione. Uno slargo di Matera è stato intilottolato alla partecipazione civica, un segno di una sensibilità nella quale ci riconosciamo. Si tratta di un segnale importante che abbiamo ottenuto presente nel momento in cui è stato proposto il viaggio di istruzione all'interno del quale si collocano la presentazione del volume e l'incontro tra gli studenti delle due scuole che ci auguriamo possa essere il passo iniziale di ulteriori e futuri momenti di incontro e collaborazione. Queste sono le parole del dirigente scolastico. Che sono qui nella prefazione di questo volume, vi ricordo che si intitola Come foglie che cambiano colore, voluto dall'Unione territoriale intercomunale delle valli e delle dolomiti fiulane e ha messo insieme comparando e rilevando le capacità gli iscritti sulla nostalgia dell'Istituto di Istruzione Superiore Torricelli di Maniango e dell'Istituto Scientifico Statale Cafiero di Barletta per i tipi della Virginia Edizioni. Con noi c'è stata Violetta Traclò che ci ha raccontato tutto quello che significava e soprattutto il fatto che Matera è la dimostrazione che ce la si può fare. Grazie Traclò e per quel che riguarda noi come al solito, alla prossima!